Recuperato morto Pierpaolo Ruffo, sub 24enne annegato a Sciacca. Su Facebook poco prima dell'incidente ha scritto Oggi il mare spacca! Il suo ultimo messaggio è stato alle ore 13 di ieri e su Facebook tramite cellulare ha scritto Oggi il mare spacca! E così è stato, profezia di sventura! Ha messo sullo stesso post sono centinaia le condivisioni e i commenti tra cordoglio, incredulità, disperazione e sconforto! Pierpaolo Ruffo è morto annegato nel mare a Sciacca, la sua città tra le località Stazione e Lido Lui, 24 anni di età e tre amici, si sono immersi nel tardo pomeriggio di ieri alle 18.30 Una battuta di pesca di Ricci, amatoriale, senza attrezzature particolari in apnea nei pressi di una barriera di scogli Poi alle 7 della sera i tre sono emersi Pierpaolo Ruffo, no! È stato lanciato l'allarme, le ricerche, affannose Capitaneria, carabinieri, polizia, alcuni pescherecci e i sommozzatori dei vigili del fuoco Poco dopo la mezzanotte il cadavere del ragazzo è stato recuperato a pochi metri da dove Pierpaolo si è tuffato Forse è morto incastrato tra la scogliera Forse è stato vittima di un ammalore Forse ha sbattuto la testa contro una roccia È inchiesta della procura saccense Sull'apposto lo strazio dei genitori Il padre bancario è consigliere comunale a Sciacca La madre lavora in tribunale Invece Pierpaolo Ruffo, amante della natura, del mare e della pesca Ha lavorato in Veneto, a Jesolo, in provincia di Venezia Anche sul profilo Facebook ha scritto Vivo a Jesolo! A Sciacca è stato in vacanza Breve, pronto a ripartire La morte lo ha colto a tradimento Sott'acqua Approfittando che fosse intento A coltivare la sua passione